altro gioco che stavo facendo intanto che parte io devo sta calmo devo andare su twitch che devo cambiare il titolo ovviamente fra poco parte ci mette solo quel tempo anche quel secondo impiutoso eccolo qua infatti allora intanto modifico parte 2 già era pronto quattro chiacchiere perfetto perché l'ultima volta ho fatto la stessa cosa quattro chiacchiere allora un dietro allora guarda che cosa c'è come sfondo bellissimi vediamo un po' twitch abbassare un po il volume tuo sì no no abbassare il volume dalle cuffie dalle cuffie a date sfogo sulla situazione nex e olgena ti avvicino ci sta quello modificato che sfogo perché stava l'ho fatto stamattina l'ho operamo modificato in questo momento comunque ci sta mi piace un sacco sono tutti gli arc trooper dietro c'è tutto l'immagine è bello visto che è bello quando fanno visto visto intanto ho cambiato il titolo perché mi sono sfogato stamattina dovevo voglio dimandare un po a cagare un po tra la questia della old gen che non presa anche me ah ok ho capito e vabbè ma a volte mi fanno girare è un tema interessante è comunque la old gen e ma mi fanno un po imbestialire avrebbe trattato e mo ho fatto un mezzo sfogo perché mi sono nervosito su alcune cose come ad esempio ci sono troppi dialoghi che la old gen non sai perché sai qual è il problema c'è un distacco colossale psicologico riflessivo tra la next gen e la old gen la next gen ormai è cambiata drasticamente questo influisce moltissimo l'ambito videoludico anche cinematografico sai anche cosa cosa cambia forse forse cambia troppo velocemente rispetto alla old gen troppo sì esatto e la old gen molte cose è rimasta nel passato e vuole rimanere tale alcuni sono tranquilli però alcuni dicono delle calugnate disumane che io mi sparo perché veramente sono improponibili come ecco ad esempio il season pass il battle pass quelli dedicati come fall guys overwatch che è nato da fortnite questo concetto e la next gen li comprano riacquisiscono non hanno problemi con la spedizione di comprare queste cose la old alcuni non li apprezzano questi cambiamenti drastici e accusano certi cambiamenti e ragazzi è l'evoluzione perché viene causato da dall'utenza cioè tanti fattori poi vabbè poi ci sta c'è season pass e season pass ciao mattia c'è season pass e season pass nel senso finché mi fai un season pass tipo mi pare fall guys che tu è vero che lo paghi però se poi giochi e lo sfrutti riesci a ripagare a non pagare più niente e averlo le volte successive esatto perché lo puoi comprare con la valuta del gioco però alcuni season pass dove tipo league of league of legend visto che prende league of legend ti obbligano comunque giochi riot anche ti obbligano a comprarlo e ogni volta devi spendere comunque ok che sono solo 11 euro però cazzarola sono sempre più frequenti i season pass nel senso durano sempre meno e ce ne sono di più in poco tempo quindi comunque 11 euro a botta comunque cioè insomma non è mal fatto per poi elementi estetici e basta c'è un conto di cocai magari da qualcosa per diventare più forte però no è solo estetica cioè vuol dire proprio spendere soli per l'estetica in un videogioco non è proprio il grano a un certo punto no davvero magari mi dai premi che davvero sono sostanziosi mi mandano sulla luna però perché anche fall guys alla fine tu fai il season pass di fall guys cosa prendi skin sono skin qualche cosa qualche kudos sì sono soltanto cose personalizzate alla fine del gioco c'è tu che fai season pass o che non lo fai è indifferente non ti cambia niente esatto stessa cosa overwatch 2 che molano molto allora non c'è ancora giocato però ho sentito delle cose di overwatch ma sono esagerazioni io io posso dire io non posso dire su overwatch lo so lo so e me l'hai detto che ancora non hai fatto un gameplay e roba simile assolutamente mi astengo da dire qualunque cosa perché voglio provare l'unica cosa che posso dire sto d'accordo per esempio per il battle pass che effettivamente non mi puoi mettere quattro cose del pass e poi una cosa gratuita quello allora io comunque ti pago io comunque ti pago quindi voglio delle cose in più che poi magari c'è anche la sfida per poterle ottenere cavolo sono ancora più spinto a giocare magari però mi devi dare contenuti per se no io quei soldi non te li do c'è capito ognuno è libero di fare come vuole infatti però è diventato un marketing un business della situazione del mondo video purtroppo perché adesso molti giochi costano poco te li danno gratis perché sono pieni di acquisti che fai in game che alla fine del gioco te lo ripagano cioè se lo ripagano cioè non è che sono stupidi tipo anche fall guys ragazzi non è che sono stupidi a regalarlo quelli di epic cioè se lo fanno se l'hanno fatto c'è un perché perché loro hanno l'intrigo io lo regalo a migliaia di persone se anche solo che ne so 1500 mi comprano il season pass io sono a posto per un gioco che mi costava 6 euro se 500 persone me ne danno 11 posso anche regalarlo a mille sì esatto questo non serve essere geni di marketing per capire una cosa del genere è un azzardo è un azzardo perché magari nessuno ti compra il season pass allora lì magari rischi però cosa devi fare per far comprare il season pass? metti contenuti su cosi contenuti che attirino cioè che facciano davvero venire voglia di ah di prenderlo mi butto 10 euro perché questi contenuti mi piacciono veramente tanto capito se mi dai fuffa io non lo faccio il season pass mi tengo il gioco gratis ci gioco ogni tanto esatto è fine io ho fatto esempio anche di Overwatch esatto perché comunque Overwatch è stato accusato perché era ecco una cosa predatoria perché veramente il battle pass ha molta roba ignorante però giustamente io guardo e dico ok avete ragione però è gratis cioè non potete contrabbattere avessi capito che era già comprato il gioco però capisci guarda la differenza dall'1 l'1 lo pagavi adesso sta a 12 euro addirittura però comunque le cose sbloccabili erano le chest c'erano le chest box che tu vincevi giocando esatto e basta tu potevi far tutto compravi il gioco poi potevi avere tutto esatto poi la gente si lamentava pure perché era randomico non c'era quello che volevano e allora sì ma poi anche il casino di Overwatch 1 ho sentito li rivedi in Overwatch 2 la storia del matchmaking che tutti vogliono fare gli attaccanti non ci sono i supporti infatti io sto facendo la modalità di sistemate queste cose cazzo io infatti sto facendo la modalità che puoi selezionare che tipologia fai io adoro il support no ma quello si potrebbe fare già nell'altro il problema è che se tu ti metti come attaccante fai una coda di 10 minuti se ti metti come supporto giochi ogni 30 secondi perché non ce n'è si esatto hai capito? esatto questa è una cosa che dovrebbero bilanciare cioè non so prende anche come magari facendo tipo tu fai tot partite in un ruolo a un certo punto non prenderai più che ne so esperienze in quel ruolo non so come funzioni la progressione fare in modo che la gente faccia più ruoli possibile no lo so ma infatti questo lo devono sistemare l'unica cosa che posso dire è che secondo me dovrebbero mettere più personaggi e coverwatch veramente ho visto che gli attaccanti hanno una marea il triplo degli difensori e dei support che se metto qualche nuovo support ignorante secondo me attirerebbe l'attenzione anche dall'altra parte secondo me quindi un po' ci si deve giocare un po' su questa cosa ma adesso vediamo secondo me col 2 io appunto dico non ho ancora visto niente ma secondo me metteranno nuovi personaggi faranno delle perché anche già nell'1 ne volevano mettere poi l'hanno bloccato quindi non lo facciamo non lo facciamo io sto aspettando ancora la campagna single player io la voglio io la voglio perché veramente è una bella l'or è una bella cazzo di l'or no ma è bella l'or però addio è il comic of legend aspetta e spera poi 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 vabbè ci sono state anche altre situazioni che mi hanno dato fastidio anche in ambito cinematografico mi sono arrabbiato con l'old già perché ci sta sempre quella questione ah hanno fatto vedere sta cosa per esempio su shulk l'ultimo episodio non voglio spoilerare hanno fatto una cosa molto particolare che è interessante però mi ha dato fastidio che molti hanno detto vabbè ma questa cosa si è vista in un film degli anni 70 questo film si è visto già negli anni 90 oh la nuova generazione che cacchio ne può sapere scusate ci sono ormai più vai avanti più ci sono film fatti è inevitabile che ci sia qualcosa appunto di simile cioè qualunque film ha punti in comune con un singolo altro film magari magari è un film degli anni 50 che chi è chissà di quando è però delle cose ci saranno sempre cioè gli argomenti sono tanti ma non sono infiniti no infatti quindi è inevitabile toccare qualcosa poi è ovvio che se io magari faccio un film che ne so sul viaggio nel tempo è ovvio che vado andrò per forza a cadere a toccarmi che ne so capisaldi come ritorno al futuro cioè capito sì c'è sempre quella questione naturale anche lì facciamo l'esempio del viaggio nel tempo fai un film sul viaggio nel tempo ok che cosa fa Marti torna indietro nel tempo fa casino è inevitabile che se uno va indietro nel tempo faccia casino nel presente sì questo quindi non puoi dire l'hanno copiato da ritorno al futuro no è un altro film tratta le stesse tematiche ma è un altro film però è assurdo perché poi da fastidio che dici si è fatto già un argomento questo simico sì quello quello ragazzi ecco che io dico non ci sta il collegamento con la next gen perché quando uno fa video su youtube o su twitch deve pure capire che il pubblico non è solo old gen è anche next gen vuole anche sapere pagare qualcosa al massimo posso dire ah questa cosa è stata proposta in un altro film andatelo a vedere magari non che ah che palle io già l'ho visto non mi interessa il tuo giudizio in questo caso mi stai facendo una recensione di qualcosa bene fammi la recensione non dire il mio giudizio personale il tuo giudizio personale lo dici dopo lo dici che non mi è piaciuto è un più che fa ma aspetta dici non mi è piaciuto perché mi è piaciuto perché lo giustifichi ma non c'entra nulla non è che la gente fa come hanno fatto con un Thor Love and Thunder che poverino l'hanno demolito sì l'hanno devastato sì dai non è poi così atroce come film che è chiaro è sempre la stessa trama c'è la situazione c'è il casino iniziale poi litigano si separano poi si mettono insieme e picchiano tutti ma ragazzi tutti i film Marvel sono così i fumetti sono così sì assolutamente no ma dà fastidio quando fanno quando cerchiamo non puoi dirmi è copiato grazie è copiato è simile è copiato che si è visto e ho capito sono tematiche ritoccate però riprese però prima o poi dovevano riprende in Shulk ci sta molto il gioco per esempio della quarta parete la quarta parete è un argomento che non la toccano da molto tempo al di là con Deadpool è solo Deadpool esatto però nell'ambito cinematografico se torniamo più indietro pochissimi film hanno toccato la quarta parete ma veramente sono stati pochissimi sono conti sulle dita sulle mani sono dieci magari hanno anche solo una singola scena che fa una rottura esatto però capito Deadpool invece dico quasi basato su quello ma più o meno ci siamo sì però poi non dovete rompermi che Shulk si gioca molto su sto argomento chi se ne frega è la sua dinamica è la sua dinamica cioè non mi venite la tengo così appunto no veramente la cosa del del come posso dire di buonanotte di avere un pregiudizio o una critica diretta su una cosa che potreste anche evitare perché ricordate che la next gen non le sa queste cose alcune cose per loro è una novità e altri dicono che infatti è stata una genialata quella scena infatti molti hanno detto che è una generata ma perché è una generata perché è una situazione ora ve lo dico praticamente Shulk sta in una situazione assurda nell'ultimo episodio sfonda la quarta parete perché va direttamente agli studios dei programmatori della serie a rompere scatole a dire che state a combinar cioè è una cosa del tipo ah guarda si sta autoironizzando la saga da Disney no non mi interessa si sta è stato deciso sta scena punto punto e anzi trolla un po' più la nostra tipologia di persone che parlo troppo su internet che insulta che dicono che i film Marvel sono astre ci ha giocato un bel ha preso in pieno un bel argomento e mi fa ridere come alcuni sono caduti pure dentro su questo piccolo tranello e la prima cosa hanno detto ah questa cosa sta già vista sei proprio rincoglionito forte allora se ti fai notare questo argomento no? beh detto questo lasciamo stare oggi parliamo di oggi parliamo di Overwatch eh no volevo dire League of Legends League of Overwatch come al solito tranquilli se ci sono se non siete esperti di Loan e niente non capite le scenette allora faremo l'episodio e alla fine faremo scenetta per scenetta e spiegheremo eh per quanto possibile le cose esatto per chiarirle ecco esatto qua ragazzi sappiate che i Random Valley sono tanti sono 94 punti i Randomville sono tanti e sarà una serie che porteremo io e Delta probabilmente sì quindi ci saranno altri episodi quindi stay tuned perché meritano veramente e credo che anche questo Dante Axe faccia piacere sapere che c'è gente che fa le reaction sui suoi video se uno fa un lavoro vedere che viene apprezzato è molto molto bello sì decisamente ok abbassa un po' il volume qui questo poi lo spieghi a questo c'è poi lo spieghi ok ok penso che sono pronti pari qui in avanti l'hanno riaggiornato ecco l'hanno riaggiornato no che cattiveria eccolo qua oh sto stronzone anche questo è un altro personaggio che non ne parliamo perché dovrebbe arrampicarsi sto idiota wow ah sì ti sto per ah che d'aiuto Mouthway come quick come si ha fatto pure la ulti bellissima allora con calma con calma allora lei parla tu questo è un personaggio allora karma lei è karma questa è mi pare una delle prime edizioni in cui è comparsa quando praticamente non la giocava nessuno madonna e per quello che dice lui gioca sul fatto eh sono da sola chissà se qualcuno mi spaventerà comparire dal cespuglio e niente Garen che sappiamo benissimo se avete visto altri episodi sappiamo benissimo che nel cespuglio c'è Garen non la considera minimamente perché perché i giocatori non la consideravano non la usavano ma è una support però lei lei è una support sì lei nasce support può giocare anche mid però diciamo che all'inizio no gioca benissimo support all'inizio fa cagare all'inizio faceva proprio cagare sì sì ma infatti quello non la usava tipo nessuno ma neanche chi l'ha inventata la usava cioè capito e poi vediamo la scena dopo vi spiego il rework eccetera vabbè vai vai con il nostro poveretto no mettilo mettilo perché qua qua è bellissimo perché allora se vi ricordate se vi ricordate l'altra volta loro parlavano giapponese lui non sapeva il giapponese veniva pulizzato allora poi impara il giapponese va a parlare con loro e questi parlano francese allora adesso vediamo che si sta studiando il francese va lì il francese questi adesso sono italiani allora piccola chicca hanno le skin italiane sì cioè le skin che richiamano l'Italia ma sono skin veramente giocabili su lol sì e hanno le stesse frasi come diceva Delta ieri sono sì ieri che usano nel gioco quindi sono imbufalito vorrei fare il panettiere ragazzi queste frasi le dicono veramente loro se giocate in italiano infatti è una figata no perché io l'ho apprezzato come lui ha voluto prendere a parte che c'è la macchia mafiosa alla dieta che è bellissimo c'è la macchina degli anni venti tipo Boston hai presente sai sì sì mafia 3 praticamente prodizionismo quel periodo lì mamma mia poi vabbè c'è scusa c'è come si chiama Alistar con la Tommy Gun che è tipo esito da Al Capone praticamente mamma mia sono quegli anni e vabbè Panther si spiega da solo c'è lo scudo pizza e il manganello ma che poi veramente diceva volevo fare il fornaio o se ci sono rimasto male sì sì volevo fare il fornaio così accadde e attenzione c'è la skin di Panther e un Panther e un fornaio sì che cosa triste vabbè poi abbiamo ecco questa è karma reworkata quindi ha detto ehi ma non la usa nessuno ma rifacciamolo sto champ e lei cosa dice oh sono sola guardate sono anche meno vestita effettivamente hanno detto ma facciamola un po' più sexy quindi togliamogli qualche vestito magari la gente dice ah è bella gnocca è bella la uso no e anche dopo rework veniva malvestissima bisfrattata infatti anche guagare gli fanno no via via che arrivano altri campioni come per dire lascia che arrivino campioni seri non tu che conti niente e lei si mette a piangere sì poveri ma ha fatto una tenerezza guarda come fa via 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 stanno arrivando arrivano altri no fanno scherzo i campioni che contano non a te che non ti usa nessuno però è una tristezza però c'è pure da dire che lei l'hanno rintrodotto ovviamente uno cacchio di trailer cinematiche finalmente l'hanno rintrodotto solo adesso è fatta anche ma guarda che la terra è sempre fatta bene solo che la gente come ti dicevo ieri era abituata a usare sempre gli stessi champ gli stessi sì sì e quindi quelli nuovi venivano un po' visti allora qui abbiamo delle perle di saggezza proprio perché mamma mia abbiamo Timo Timo e Mamu Timo sostanzialmente è lo stupido e si arrampica sulla torre e Mumu che è questa mumia piagnona però la schiena è un'abilità che lo fa piangere lui quando piange vicino alla gente fa danno piangendo quindi pensate che tipo di lacrime possa fare come la chiama aspetta Mumu il pianisteo acero è una roba del genere si lo chiamavo in un certo modo poi piccola parentesi ai capelli da emo perché questa è la skin emo però l'ha deformato vedi che poi si lui in realtà è più una mummia verde sostanzialmente quindi comunque chi ha invitato LOL era fissato con l'Egitto perché mi mette naso a Mumu insomma cultori della cultura egizia e qui Timo fa oh guarda che bello si vede tutta la landa che bello è bello che si vede il primo questo sarebbe la guarda guarda top lane mid lane e poi c'è la jungler e poi c'è la tutta parte la bot lane teoricai esattamente e poi inutile dire poi dice ah devo cercare aiuto e a chi andiamo andiamo con Malphite cosa fa Malphite ulta perché il tempo vedi Malphite quella è la sua abilità R che si lancia e fa saltare in aria la gente bellissimo tempo fa molto tempo fa la gente appena aveva Malphite lo usava solo per la ulti perché non usava nient'altro di tutte le sue bellissime skill adesso mi pare ha subito dei reworkini è un po' più giocabile quindi la gente lo utilizza solo per ultare ecco esatto esatto molto bene intanto nel frattempo che partirà la pubblicità molesta no no parte la musica giapponese che ha scelto quindi meglio andare avanti che se no rischio spoiler a caso e moce togli 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 no no già l'ho tolto già l'ho tolto siamo nell'inquadratura a due quindi tutta apposta si no si è solo che io continuo vedo la pubblicità quindi dico ah ma la pubblicità è diventata ormai una cosa insopportabola oh eccolo qua eccoci qua siamo finalmente alla nove nove eh tanta roba vediamo un po' qua in cosa ancora non ha aggiornato Ash come skin si ma col cappello di kelly mamma mia era inguardabile ma pure l'arma come sgamarlo ecco questa bisogna spiegarla sì sì no ma spiegarla ma spiega ma spiega jajajaja ancora Vieni la scuola! C'errò! Rai! Rai, che piccola c***o! Dio! 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 Cosa non hai ulti? Non ho più saluto 3 ulti, sono salvato per una combattina di squadra. E perché tu non lo vuoi? Beh, non lo vuoi perché... Vieni ragazzi! E' mio! Guarda per me! No, 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 non funziona così! Ahahah, che horror! Questa è eccitazione alla mosca, comunque. Si, molto, si. Decisamente alla mosca. No, 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 no... Beccato. Ah, qua era con qualcosa, si, ovviamente, con... Reworkato, oltretutto. Reworkato. Eccolo qua. Allora, qua è inutile a dire che... Allora, vabbè. Stanno parlando, dicendo, come mai non riesci a a farmare, insomma, uccide di mina? Eh, ma perché ho visto che c'è Rengar da qualche parte, che Rengar è sto gattone qua, e non lo vedo perché Rengar, quando è nei cespugli, può saltare addosso alla gente con una sua meccanica. Eh, che ti fa, ma adesso ti faccio vedere io come facciamo uscirlo, dopo tutto è un gatto. Eh, infatti... E tu come lo fregano. Ah, è... Qui si gioca molto su un'abilità di Mastery, che si chiama Colpo Alpha, tra l'altro, che è la sua Q. Praticamente tu la attivi in gioco, lui inizia a trasportarsi addosso a tutte le persone che ci sono nella mafia, quindi le colpisce tutte, e poi torna al punto di origine, no? E quindi qui fa vedere che lui fa tutti gli scattini tra gli oggetti della landa che in realtà sarebbero i campioni, quindi si gioca su questa sua meccanica. E sai che è la prima volta che io non lo capivo da piccolo? Ovviamente intergettabile, eccetera. Eh, la picco, quando ero già la prima volta che ci giocavo, io non l'avevo mai capito, perché lo fa... Vedevo gente che faccia... E questo coso zoro. Sì, 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 sì. Io non capisco zoro. Ma serio, eh? Cioè che poi faccia pure kill Perché ammazzava uno Fa un sacco di danno C'è proprio l'abilità con cui fa più danni Questa Poi abbiamo Chi è lui direttamente Quelli sono Garen e Darius che non cercano a prenderlo Allora arriva Twisted Fate Che è questo bel cowboy Che tira le carte qua Che è un'abilità suprema che gli permette di vedere Una ampia zona di mappa E teletrasportarsi in un punto in cui riesce a vedere Con questa visione Il problema è che teletrasporta solo lui Qui gioca sul fatto che anche questi arrivano E se avete visto il film La Mosca Sapete cosa succede quando Due creature tentano il teletrasporto Nello stesso momento Si fondono praticamente Non è che ci provano E che semplicemente lo scienziato Deve fare esperimenti di teletrasporto E una mosca entra lì dentro a tradimento Bastardo Che cosa bella Infatti era uno dei film horror più belli Di quei suoi tempi I suoi tempi Pensa che l'hanno reworkato Oppure c'è pure quello nuovo Addirittura rifatto Non mi piace come l'hanno fatto Non mi ricordo Anche anno forse 2013 Sì l'ho dato uno sguardo Ma il primo era proprio marcio Cioè nel senso Sa che Non sapevo neanche come definirlo C'era proprio brutto Sì era fatto proprio da Dio Era un mostro Io lo concedo proprio Quello realistico Invece poi L'hanno poi digitalizzato E quindi rovina quella cosa più semirealistica Andava bene perché Ragazzi come Sharknado Cioè deve un film marcio Piace per quello Sì esatto Non è che puoi stare a rifarlo No no infatti Vabbè qua si deforma Ebbene se te le trasportano Non funziona così E buffa Arrivano lì E tutti insieme Che ansia Mamma mia Se lo ammazzano male Maronna che ansia raga Che ansia No League of Legends C'è tanto tanto da Da vedere Perché veramente League of Legends Voi lo sapete Ma League of Legends È un gioco vecchissimo Se dobbiamo confrontarla Fino a mo' Da quanto tempo che sta È abbastanza 2000 Aspetta Dio non mi ricordo Anni 2000 Che cazzo Allora andiamo a dire Non so sai da che anni sia Vado a vedere Perché sai che sono curioso 2013 12 No 2009 ragazzi 27 ottobre 2009 2009 È però il beta Però il beta Il beta Il beta No no rilasciato Ah rilasciato Minza Rilasciato Come sentirsi vecchi Mamma mia Allora Partiamo diretta Nel 10 Perché ci sta Quello coso simpatico Comico Dedicato Al video Quello la parodia Non ce lo guardiamo Lo vediamo insieme La prossima volta Perché facciamo Tutte e due insieme Parliamo meglio Peso Quello che durò di più Quindi preferiamo Quindi Cliccati Apriti Via 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 Parta 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 Oh che peggio Eh ma allora Ok Allora Allora Voi vi starete chiedendo Cosa succede Quando Quando Lee Sin e Darius Stavano giocando Vi ricordate ieri Che c'era Lee Sin che giocava Con la mazza C'è col lampione Di Jax Ecco Quindi Vi ricordate Adesso vediamo Cosa è successo Vai pure Ecco Ma dai Complicità qui Eh vabbè Eh ovvio Eh sì Certo Dovebbe andare così Dovebbe andare Già Ambraccio di gruppo Tutti amici Vedete Come dovrebbe essere La community di LOL Super Mario Cosa E come dicevo prima Stereotipi a manetta Poverino Oh e next time You're the girl Ok Ok Che cosa Dovebbe succedere Qui è come le cose Sono veramente andate Madonna è mazzata Vai vabbè Giusto Ma ancora il Twitch L'ha appeso da prima O no Ah forse ho capito E gira Ben chissà Ok Bella 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 Magari Ah ovvio Prima l'abbraccio di gruppo Poi ci menamo Dovremmo andare a combattere Adesso Eh sì Vabbè Questa Allora Questa la continuazione Dice Ah sì guarda Tutti amici Scusa Sono uno stupido Scusa Uno stupido Quindi qui Si va sul fatto Che su LOL È più facile Dare la colpa agli altri Che dirà Cavolo Magari ho sbagliato io Quindi gioca su questa cosa qua E E poi Niente Tutti amici E poi dice Come Vabbè Poi abbiamo Isreal Non la spieghiamo più No perché Alla fine Il concetto era quello Hai detto giusto Perché sì Quello diciamo Come dovrebbe essere In un gruppo Cioè È a secondarci No che se uno Fa un errore Invece Magari Rinfacciarlo Senza dire Ah potevi fare così Potevi fare cos'ha Ma non dire Abbiamo perso Perché tu hai fatto così Madonna Che vi piace o no È un gioco di squadra Quindi se si perde È colpa di tutti Perché avete giocato male tutti Esatto Esatto Non darà colpa a qualcun altro No assolutamente È solo colpa tua E basta Però far Madonna È real È real Prova a fare l'italiano Con le sue frasi in italiano Però gli va male di nuovo Però far ridere che gli hanno messo il naso Il naso di Mario I baffi di Mario E di là ovviamente c'hanno i tedeschi Perché sappiamo Che bel collegamento 1922 Sappiamo da lì Che bel collegamento Collegamento storico a caso Esatto Guarda che collegamento storico Ha avuto Non so quanto sia stato randomico Sai dentro No non credo che sia stato randomico Però è stato geniale È stato effettivamente geniale Apprezzabile Sì poi Va bene ok Poi lui gli fa la battuta Questa volta fai tu la donna E eccetera Ecco qua E qui invece come va veramente Pam Tu si picchiano Questa Pausa Sì questo è interessante Questa cosa l'ho vista spesso Spiega Questa è la meccanica di Lee Sin Che se lui rivede le ward Quelle lampadine che vi dicevo ieri Che si mettono in cespugli Può saltare su quella ward lì Immediatamente E quindi evitare un attacco E colpire a distanza Poi può sparare con le specie di onde energetiche E poi picchia la gente a mani nude Perché il monaco è quello che fa E vai avanti Perché è ferma quando Dario Stoglie lascia Ok questa Perché Dario scolpisce un nemico Che è dietro di lui Perché quando giochi contro Dario Se tu lo attacchi Lui scomma ha tanta vita E ha tanta life steal Quindi si cura Se ne frega altamente E colpisce con sta sua accia Quasi a caso Becca la gente E se becca si cura Quindi È come se ignorasse i danni Che prendesse Capito Quindi è giocata anche su questa cosa Questo non lo sapevo Lo sai Sì sì Perché Dario Stoglie lo picchi Però lui continua a curarsi Quindi continua Vedi gli animali Se ne frega Che l'altro lo sta picchiando Sono talmente forti Che vedi E pum 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 E Jax niente Allora me ne vado Sì sì Che diventa invisibile L'odio ha fiutato Inizia a picchiarlo Pestarlo malissimo E poi gira Perché la sua abilità Che vi dicevamo ieri Con la che inizia a girare Tagliuzza la gente Mentre gira Ah beh sì Un'altra 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 che mi rimette Web come normale Perché ecco Madonna Come lo mena Ovviamente pubblicità Metti subito muto Eccolo qui Undici Eccolo qui Super skillato Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui Un disastro Vabbè il nostro Master yourself Master the enemy Madonna è la versione Vecchia La vecchia del Nashor Che brutto Mamma mia Era bruttissimo Il gattino Il gattino in difesa Poverino Oh In questo modo Non può spiegare Parte questa percussione Vintage A questa Non si conosce La vecchia delle cinque Giustamente Madonna Ha fallito in continenza Allora Picca poi Questa scena qui Possiamo dire Che è un riferimento A A A Uffa Ho detto Final Famiglia I Griffin Griffin Madonna Stavo dicendo Family Guy Perché In inglese Family Guy Mamma mia I Griffi Quando Peter si spaventa E Maggera le spalle Eh sì Madonna Che cattiveria Ma che poi sono già in cinque Quindi piccola parentesi Se dovrebbe essere una squadra Non mi trovo Ah beh Isreal è dell'altra squadra E quel caro armato lì Dovrebbe essere Irelia Perché se tu senti i loro discorsi Dicono No dobbiamo trovare una soluzione Per fermare Irelia Perché Irelia veniva buildata tank E solo che il mondo è talmente forte Che non sa quanto È potente E allora Veramente Attacca così Senti senti Falla ripartire Prova a sentire Aspetta Non avevo capito Io penso che era un riferimento Prova a sentire Aspetta No dall'inizio ancora prima Sì 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 Qui c'è Victor anche Sì sì Da qua Senti eh Aspetta aspetta Ah ok E li hai capito Perché troviamo Tanca Irelia Tanca Irelia Esattamente Non avevo capito No il presenter dice Luigi vi presento la soluzione Per sconfiggere Irelia Ed era il caro armato Sì perché tanca era il gioco di parola Era il gioco di parola Solo che ovviamente Mundo siccome è stupido Lui dice Ah è un'arma ok Boh E la usa come la prima cosa Che gli viene in mente Non sa che deve entrare Punta il canone e sparare Capito Sì 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 Vabbè Quello l'avevo capito E poi dice Ah questa è la tua arma Bella mi piace la tua arma Sì sì In realtà non si usa così Mundo like your weapon Vedi Sì 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 no Infatti tutti i complimenti Bravo Grazie Grazie Non dove andare così Però non lo sapevo Il fatto del tanco Sai questa cosa Mi ha colpito Un bel giochino Perché in teoria Irelia è un assassino E per counterare gli assassini Servono i tank Quindi ecco Spiegata Non ci avevo mai Ah qua è Diana Lissin No No Questa mi sembra Camille No Fiora 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 Madonna quanto mi è piaciuto Quanto cacchio mi piaceva Fiora Madonna Fiora Fiora è bella Però è un assassino No ma hai capito Top laner Top laner No no è top laner Top laner Ok ok Perché no Però è bellissima Vabbè Ah una meccanica interessante Più che altro Unica nel suo genere Io ho detto bellissima Non l'ho detto Ah è bella Che sì Tra l'altro c'è anche una skin Che è ispirata A un EC Che si chiama Prison School Non so se lo conoscete Non ce lo volevo dire La skin è quella La scolastica La scolastica La maestra La maestra No preside Si affiora preside Mamma mia Che ce l'ho Ce l'ho Perché non mi sorprende Ma solo perché lo trovate in una cesta Non è che lo A me piace la versione estate Mi piace troppo È simpata la versione estate Eh Ecco Preparatevi Arriva Eccolo lì Ecco da notare una cosa a rallenty Guarda come scatta Vedi perché appaio da terra Questi Non lo guardano Sì Guarda vedi Perché i pro player di Lee Sin Mentre volano Cioè mentre saltano da un l'uno all'altro Ne mettono già un altro Ci saltano sopra Quindi Come cacchio fanno È proprio una meccanica davvero veloce Di questo champ Madonna Come fai? Eh devi averle dita veloci Mammo rogarmene Ma lo fanno Lo fai proprio Cioè è proprio così Che si scherza su quello Perché c'è gente talmente mostruosa Che boom world E si salta sopra Mammo Che ansia Ovviamente deve colpire Qui è esagerata la cosa Per cui dobbiamo Prima illuminare con la sferetta Che avete visto prima di luce Sì E poi salta sul nemico eliminato Infatti dopo si vede con Corky Quando vai avanti Poi lo vedi Sì sì Insomma colpisce gente Ammazza gente Questo se lo porta dietro Va bene Questa è la citazione di un film Però non mi ricordo qua le cacchio Vabbè viene in mente Tekken Quando c'è Anche Paul Phoenix Che spacca i muri Esatto Eccolo qua Quando muo fa l'onda energetica Ah A parte che c'è da Darius Che se lo colpì a terra Eccolo qui Vedete colpisce Corky E poi E poi va Lo raggiunge Ok Mamma mia Che cattiveria Colpisce Cade E nel mentre c'è anche Anivia Che è il nostro uccellino Di ghiaccio preferito Che tutti lo schifano Qui ovviamente capiamo Che l'Isin è un jungler Perché ovviamente Gioca a giungla Ha la meccanica di salto Addosso alla gente Quindi dalla giungla Salta nella lane Bastanza intuitivo E poi qui E poi qui vabbè Prova a farsi consolare Dal Baron Perché dire Sono talmente Scarso praticamente Che non so cosa fare Madonna Piccola parentesi Questa è a top lane Perché il Baron Si trova Sì Vabbè Forse tu lo conosci Workout Io lo conoscevo Già con questa versione So che sputa veleno Ma non so altro di lui Non è che sputa veleno Spara tipo delle palle Di blocchi di vuoto Di spazio Adesso non è che si Si capisca bene cosa sia Comunque la sua abilità E quella là Che la ulti Può teletrasportarsi A volontà Per tutto il tempo Addosso ai nemici E sostanzialmente Si tira cose addosso Agli avversari Ma sono acide Comunque è un mago Sì sì È un mago Mago da mid laner Non mi ricordo neanche Come cavolo si chiama Perché non è che Si è troppo tanto usato No infatti Però è forte Chi lo usa Mediocre dai Non è così Vabbè però Chi lo sa usare Che magari Ador tanto Siamo sempre lì Chi gli sa usare Ovvio che è forte E poi Si spaventa E boh Mi tagli la sputa Ecco Quello è il teletrasporto Ecco Quello che ti ha fatto E poi E può vomitare anche Garen Perché va bene Vabbè Qui abbiamo carta sassoforo Cioè qui si gioca sulle skin Skin di Malphite Che lui ha Le mani disegnate Però in realtà Non le apre mai Quindi Con questa skin Adesso l'hanno reworkata Adesso ha le mani E con questa skin qua E sai che Con questa skin Mi dà fastidio Perché Io ce l'avevo Nella vecchia Il mio vecchio account Bello Bannato purtroppo Allora Non colpa mia Alzo le mani Praticando Questa skin era fichissima Perché lui in realtà Era il classico golem E anche nel disegno Lui non aveva una mano Aveva proprio una pietra Qui aveva Era una figata Quindi Ovvio che Quando lui fa mano Sasso forbice Il sasso rimane standard E a lui invece Il caro Zed Zed Ok Lui gli scattola le lame Ogni volta che abbassa Le braccia Quindi vengono quasi automatiche Quindi il gioco è questo All'assassin creed Praticando Madonna si decisamente Un po' tutto è un assassino Quindi voglio dire Ci siamo Ci ritroviamo Però Quindi muore L'hanno messo la mano Che tristezza Si c'ha le mani adesso No vabbè Grazie a Dio Era più figo però Secondo me Lo sai Mamma mia Punti di vista Ma è punti di vista Che cos'è sta cosa Vabbè Ma io non leggo Eh Quella cosa lì Che fa farla cacchina Dai Ok Va benissimo Ma io non sapere Ok Ecco qua Eh vabbè Poi ne parliamo Allora Fitz Un altro cancretto Inserito dalla Riot Per divertire Lo spiego dopo Sì È stranissimo Sto cosa Io la prima volta Che lo vedi Sai cosa ho pensato Sai cosa ho pensato Seriamente Sushi Uno Due Due I cosi tentacolari Non mi sono molto piaciuti E la terza cosa Ho detto Oh mio Dio Mi fa ricordare Stitch Di Lilo e Stitch Ti giuro Porca miseria Io ho detto Ah è una creatura del mare Quindi mettiamogli Un Un richiamo a Nettuno E non ce l'hanno fatta Perché quello Non è un tridente È un forcone Sì è un forcone No aspetta Adesso non mi ricordo la differenza Perché Se ha uno Due o tre C'ha tutti i nomi diversi Quella specie di Siamo il tridente Ne ha tre Il forcone ne ha quattro Comunque c'ha tutti i nomi Quello a quattro È il forcone Sì È quello dei contadini No Sì è quello da quattro Tridente Questo Sì Questo ne ha tre Però vedi che sono fatte In modo strano Non è classico tridente No questo è tipo raggio Questo è un tipo raggio Non è Sì tipo Sì per prendere Esatto Questo poi me lo spieghi Perché non l'ho capito Perché Magari me lo spieghi Vabbè lui Ok in realtà Sì Non è che c'entri con LOL C'entra con Gli animali Sì sì Poi ne parliamo Probabilmente che Mia di merda Sono le vere frasi Di Gameplan Sì sì è vero È così È OD 거� In realtà Si è più È così Quello è lù Ok Tutto Sì sì Che Sì Ecco No C'è l'ha fatta E invece no Mammo roga Bellissimo È l'arte della guerra Ah sono ancora qua questi Oh mio dio Oddio che cose inquietante Mamma mia Ok con calma Allora questo non ho capito Pesce palla Deltel Pesce palla quando è spaventato cosa fa si gonfia No ti prego Che cosa triste Ok io penso che era un'abilità Ok Ritiro quello che ho detto Poi vabbè qui Zed è la famosa Celatina quindi lo imita E lui lo può gonfiare perché tanto è una cosa gonfia Qui Ash Che vabbè Ash è la nostra cera di gelo Quella che si usa nel tutorial di League of Legends Praticamente Adesso non più Adesso è diversissimo No 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 una volta Una volta era Ash È un abisso ululante con Ash Mamma mia bellissima Che era anche giusto perché nel Freljord Era l'origine del Freljord Quindi comunque ci stava anche contestualizzato adesso Ma non c'entra una fava Comunque qui vabbè lo manca con una freccia Però diciamo che è una citazione a Robin Hood comunque No non era Robin Hood No come si chiama Guglielmo Tell Guglielmo Tell Lo manca Qual è la sua abilità Praticamente Ash ha un'abilità finale Una ulti Che tira una mega freccia assurda Che più distanza percorre E per più tempo stordisce chi colpisce Ed è col freccione esattamente Porca miseria Che ansia Vabbè E qui si ria Ci riprova però vabbè La tequila mi piace Io non l'ho mai bevuta Non l'ho mai bevuta La tequila Non l'ho mai bevuta Mai bevuta neanche io Ho paura Perché non lo so Se qualcuno l'ha provato Dite me per come Perché non lo Ho paura di provarlo Tante Ma c'è un modo per C'erano due modi per prenderla Andare in Spagna No a parte che forse è Messico È Messico volevo dire Spagna Però c'è tipo un modo Di prenderlo Che devi prima Non mi ricordo se prendi il sale C'entra il sale Il limone e la tequila Però non mi ricordo come si prende In che ordine si prendano Se qualcuno è esperto scriva E che vediamo Però è bello che prende le parole del gioco Questo qua Io lo ammetto L'ho apprezzato questa cosa delle parole Hai stato bravo a montarle Sì Mamma mia Intanto andiamo avanti Vediamo cosa c'era più avanti Ovviamente C'è la pubblicità più avanti C'è la pubblicità più avanti Ma c'è le cose invernali Stanno a mettere Eh beh Quando le devono mettere Scusa Vabbè a novembre Tecnicamente Tecnicamente Oh eccolo qui Perfetto Prossimo Scusate che faccia questo cambio drastico Però ragazzi Non ho i diritti Oh no no Ecco Non mi danno le pubblicità Quindi col capo Ovviamente Anzi Me lo metto in mia insaputa Eccolo qua Cosa ho appena sentito Various Ok ok Due varus Due tipologie Vediamo Il loro varus Un altro bell'arcene Eh qua Eh vabbè Tiro con l'arco Vabbè se Grazie Lì a bersaglio Così Stai dietro Stai dietro E va prima lui Eh si Deve star dietro Ovviamente Colpisce uno pesante No Giusto Sì infatti Non gli fa niente Madonna Neanche lui ci crede Che cosa Ecco pazzo Vabbè Lui lo devo ancora rivolcare Se non sbaglio L'hanno già fatto Non mi ricordo Se l'hanno rivolcato Sì Di estetica solo Eh di estetica però Però non l'ho più visto Come Ma che cattiveria Eh eh Buon lavoro Ma High five Why Thank you It was Ma Madonna Che cattive Che disastro Che Madonna Potrebbe andare peggio Sì Eh beh Effettivamente Ho visto una cosa Lì dietro Allora Lo spaglio partiva Anche la musica Di Halloween Poi vediamo meglio Allora qui Chogat Come abbiamo detto ieri Se mangia la gente Diventa grande Infatti Qua è enorme Sta andando in giro Per la lana Ragazzi Lui diventa letteralmente grande Quindi Ve lo vedete proprio enorme Nella mappa Che cammina Vabbè Qui viene rimpicciolito Perché di essere grande e grosso Ma ti spaventi Per uno scherzo Quindi Ti 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 Si distinge Sì Questa è serata simpatica Però c'è da dire Che poi se viene sconfitto Inizia a diminuirsi E ritorna normale Sì Perché perde Tot Punto In fare Si ne picciolisce Ciao Ci puoi un saluto Bella Ecco Intanto M'ho visto Nel commento Ecco Vai Poi esagerate Cioè Mamma Sì Vabbè E' eccessivo Però comunque Sì Sì Lo so Però possiamo dire Che Chogat Però sono dei bastardini Perché Chogat In realtà somia moltissimo Ai tiranni Di Warhammer 40.000 Sì No ma poi Qui è fatto anche Sai cosa Hanno giocato anche Sul fatto che lui Ci mette tanto A diventare grande Comunque deve mangiare Poi basta che muoia E si rimpicciolisce In colpo Sì Tutta la fatica che ho fatto Vabbè Varus è un arciere Del void Io adoro riguardare Tutte le skin Sono le skin vecchie Queste qua Le prime Vedi anche Mi sforzo Le skin base Mamma mia Uh Graves Mamma mia Italy Che poi guarda Dove li hanno messi Jungler Top Sì 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 Lui madonna Quanto era brutto Guarda L'estero era orribile Lui è invece rimasto Quasi uguale No Draven Questo è Draven Draven Madonna Il Baron Puro brutto Vecchio Il primo Così compare Legolas Perché sì Vabbè Ragazzi Robin Hood È inutile dirlo Non c'è come skin Green Arrow E però aspetta Robin Hood È più citato Da Da Ash Perché c'è la skin Di Ash Archer 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 di Sherwood Proprio Si chiama Sì E quindi Figurati Beh c'è anche Ezreal Che è Ezreal Notting E qua se avete Giocato Ai Souls Sapete Perché mira proprio Al ginocchio Comunque sì Del voice Poi lui Esattamente Quindi è un antagonista Sì Diciamo che è un cattivone Diciamo che va Braccetto con Trash Sanzialmente Ah ok Ok Infatti c'era l'evento Stella Oscura Avevano messo proprio Loro 2 Nel video Proprio solo Loro 2 ci sono La skin Stella Oscura C'erano solo Loro 2 Ah ok 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 No perché io Loro ragazzi Non la seguo Da una vita Devo leggermela Un po' Vabbè comunque Qua sostanzialmente È una strategia Dice siccome stai perdendo Stai dietro di me Così almeno fai punti No gli dice Poke di enemy Poke vuol dire Attaccare dalla distanza Non prendere il cazzo Senza esagerare E lui dice ok Va bene ho capito E poi fa tutto L'addittura ad attaccare il tank Che ragazzi La di Kerry Deve cercare di Non attaccare il tank Deve attaccare tutti gli altri Tranne che il tank Questo qui cosa fa Va a attaccare il tank Ecco Venti non gli fa niente Però vedi L'hanno qua L'hanno identificato Come ti dissi io A volte come support E che gli ha messo le mani Ah Vedi che qua Gia ha le mani No 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 Tu non hai capito Questa è la skin standard Ah è quella standard Ok Sì Quello normale Invece quello là Di pietra Era invece Con il pugno So di lato Però le mani Ce l'aveva dall'altra parte Aveva una mano E l'altro era di pietra Proprio Quindi Però E attaccare un tank Anche con una di Carrie Che non è Non è fidato Ecco cosa succede Che gli fa solo solletico Appena quello si gira Buon muori Sì effettivamente A parte che quello si è suicidato Però si è riferito A mente Però vedi Qua l'aveva messo Nel video Come support tank Come lo ho usato io O se no è andato A top lane Come pazzo Bravo Esatto Quindi poteva anche Più facile quello che altro Però Lui E poi abbiamo Un nuovo personaggio Non l'abbiamo ancora visto Nei video Parla Prima di un atto Di lui intanto Shaco Allora Shaco Vabbè Ispiratissimo A Joker Harley Quinn Proprio una bella fusione Più Joker Sì Siamo un Joker Con le semianze di Harley Quinn Sì i colori sono di Harley Quinn Perché c'è la schiga Lui ha l'abilità Di mettere questi pacchettini Trappola Che se tu gli vai vicino Ti attaccano Ti rallentano Ti spaventano E poi è un assassino Quindi gioca nella giungla Può diventare invisibile Ti salta addosso Ti ammazza male E c'è anche l'ulti Che si sdoppia Mi parla Sì si diventa sdoppio Allora dice Ti do la scatolina Guarda che bello Gli fa Oh bello E lo accoltella E lo ammazza male Con tanta cattività Gli assassini Fanno fuori gli adicardi Sì No decisamente E poi che succede E poi che succede Voglio solo dire Una cosa su di lui Io mi ricordo ancora Qua ti parlo sempre Agli albori Quando giocavo Dove praticamente Molti usavano Midlane lui Lo usavo molto in midlane Allora veniva usato Anche midlane E ha una certa efficacia Però secondo me Non lo rende bene Non lo rende bene Se ne dà la giungla Ah eccolo qui E qui chi è? Questo è Xerath Xerath è un Elementale del tuono Ragion per cui Se lo tocchi Prendi la scossa E Giaco non lo sa E fa ok Ci caschiamo Facendo il classico gioco Sapete quello Della manina elettrica Che gli dai la mano E tu prendi la scossina No? Sì Che poi non è Joker Praticamente A Batman Addirittura No Bruce Wayne Addirittura E quindi Si richiama a quello Però posso dire una cosa A parte che non prendi la scossa Perché quel coso bastardo Che io ce l'avevo Non fa Trema Fa L'improvviso Però non è una scossa È che all'improvviso vibra E tu ti spaventi Che fa un rumore strano Però non prendi mai la scossa Infatti è una cosa stupidissima C'era un mio amico Che sapeva già di sta cosa Quindi quando facevi Non gli facevi effetto Che giustamente È una cosa che deve Farti lo spavento Non è Eh sì certo Se lo sei già Quindi non ti fa un ben niente Piccola parentesi Lui però Non ho mai capito Che personaggio è Cioè buono Cattivo Perché anche questo Dobbiamo accennare Non li ho mai Capito Io sinceramente Non ho mai approfondito Mi sembra uno abbastanza Insomma Un elementale Quindi magari Nel suo piano di esistenza Non saprei definirlo Buono E cattivo Anche perché Effettivamente Chi è che puoi definire Buono Vabbè Diciamo che Vabbè Garen Dici Demacia Vabbè Ok ho capito Ma lo dici tu No no Io dico No invece sì Perché lui è un soldato Un cavaleano Fatto E anche Darius Anche Darius Però Darius È passato da buono a cattivo Perché è cattivo Perché diventa cattivo Ma perché Perché nella loro Darius Gli altri sono i cattivi E lo so però Lui diventa Nella loro Lui che era A favore di Demacia Poi se ne va Insieme al fratto Cioè è tutto un casino Infatti è tutta una loro Ragazzi Per questo io spero Che fanno qualcosa Di interessante Perché se fanno una narrazione Spiegherebbe tanti quei cosi Perché ragazzi È beautiful Cioè Dico Vlegger È beautiful È diventato Adesso con le loro Che hanno messo dei champ Mamma mia Anche perché l'ho approfondito tanto Quindi Potrebbe Oddio Cos'è Non sarebbe male Cosa ho visto Timo Schiavizzato Ehi Vabbè Più 18 Non è colpa mia Motore di fascia protetta Vabbè Non lo sto facendo Non lo sto facendo vedere Però Mamma mia Ci sono altri siti Per queste cose È lui che ha fatto il video Non è colpa mia Ed è a favore su YouTube Ok Ok La smetto No comunque Veramente Se facessero Dei videogiochi Dei videogiochi O appunto Delle nuove Lore Mamma mia Io vedrei tutto Lo vedrei Arcane Non mi piace la trama L'ho composto Perché Jinx V Non mi sono mai Attirati Come tra Mi piace il paesaggio Ma non mi piace La loro lore Lo ammetto Per questo Arcane Non l'ho visto Però A prova E confermo Che come concetto Di design È un mostro Cioè Concetto tecnico Grafico Alzo le mani Però Volevo tanto Vedere i blintrack Volevo tanto Non ce stanno Cioè È tutto un altro mondo Quello È tutta un'altra narrazione Infatti Per questo Che sapevo già Che non toccavo Quell'argomento Allora Ho evitato E gira Sempre che gira Ma per lui Deve girare Sennò Divene il cancro Ah Ari Ari Ok Ari è quello Che vi abbiamo detto Ieri Lanciava il cuoricino Per charmare la gente Ovviamente No E tutti i suoi piedi Perché vabbè Anche se non mi è mai piaciuto Ari Sai come personaggio No È carino È carino Allora Non mi piace Perché poi A parte che Diciamo Lei rappresenta La volpe a nove code Eh Quindi E' una cosa Ma moro caro Ma che orrore Ma che orrore Io non riesco a guardare Guarda 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 il cuore! che cosa orribile! mamma mia che orrore! oh, quindi tutti pensi che sei migliore di me? per favore, signora, è il momento di lasciare, tu hai chiamato tutti i miei costumi! oh, ha ha ha, signor Comedian, non ti preoccupi, sto lasciando questo stupido, per favore! l'ulti, quello è l'ulti, tecnicamente, no, no, ecco, ecco, ok, la spieghiamo, ok, spieghiamo un po', vabbè, fiddlestick, vabbè ragazzi, fiddlestick è uno spaventapasseri, e garen pro ma spaventare uno spaventapassi, lui gli fa ma seriamente ci stai provando, e gira! specifichiamo un attimo lui perché è uno dei miei personaggi preferiti, non lo so usare perché è jungler, e adesso è proprio puro jungler, non ti veniva usato anche mid, adesso è diventato proprio puro jungler, ah, vorrei incubi, Aibi, non dovevi starci a fare un saluto, hai visto una cosa traumatica, per favore, hai visto come era Ari, mamma mia, quella è Ari quando è in fase, quando beve troppo, quando non è fiddata, mamma mia, esatto, madonna, comunque lei, ma è puramente jungler lui, porca miseria, lui, lui adesso sì 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 sì, assolutamente, però è fichissimo come l'hanno fatto adesso, ma è fichissimo, ma mette l'ansia, hanno revorcato la ulti mi pare, l'aspetto è anche la ulti, il pipistico, cioè i corvi, che cosa hanno fatto? Sì sì, fa tipo un, sempre la stessa area, però si può saltare dalla giungla nella lane dove vuole, sì, e in quell'area lì fa tira tutti i corvi addosso alla gente, no, vabbè, vabbè, morte assicurato praticamente, sì, no, ovviamente anche se gioca in un peggio di fasmonofobia, mamma mia, che poi, io devo dire la verità, all'inizio quando lo vedo dicevo, chi è sto critico, però mi piaceva, adesso guarda anche l'immagine di base che gli hanno messo, è molto molto figa, adesso fa paura, ma io ho visto la clip, la clip, perché quando fanno un nuovo personaggio lo reworkano più che altro, fanno un picco cinematica, porca miseria cinematica, raga, quando io l'ho visto mi è avuto l'ansia, perché sono stati bravissimi, sono stati bravissimi, e io ce l'ho la versione Halloween, raga, che poi è bellissima, la versione Halloween hanno l'immagine classica di Halloween, ma quando tu lo giochi è tutta un'altra cosa. Sì, sì. Scare me, really? Dice davvero, adesso ti stai provando, vabbè, qui l'Ari, quando l'Ari è pro che ci arma tutti, ammazza la gente, è sciotta, e poi c'è l'Ari in Upa, che ovviamente te la trovi in squadra a te, e fa quello che può. Parentesi, perché lo fa? Perché lei con dei cuori attira l'attenzione e poi li sciotta, praticamente, questo sarebbe il concetto. Sì, perché mentre vanno verso di lei, possono solo camminare verso di lei, non possono agire né fare niente, quindi... Possiamo dire che Ari è una citazione di riferimento alla cultura giapponese della Volpe Nove Code, e piccolo... Puoi dirlo anche con un'assoluta certezza, praticamente, perché poi c'è addirittura la skin Volpe spirituale, che è praticamente... Adesso mi pare sia la creatura che compare quando i ciliegi fioriscono. Sì, perché è lo spirito della Volpe, perché è il spirito della Volpe. Sì, sì. Non è quello di Naruto, eh? No, no, no. Non è Kurama. Esatto, esatto. È un'altra cosa. Anche se il globo che tira potrebbe essere simile all'ateriosfera, a Rasengan Sfera, però... Però c'è da dire che teoricamente è un concetto di cultura giapponese, quindi ci può anche stare perché è una questione di spirito. Eh, come i draghi, la Volpe Nove Core, sono tutte nelle recolture giapponese. Loro sono delle Neku, se non sbaglio. Lo so poi un Neku, perché li chiamo Neku le ragazze. Sì, Neko è più gatto, più... Eh, perché poi ci sono le variazioni. Perché ci sono dei Neku, ci sono i Tanuki, che sono gli orsetti, mi pare. C'hanno proprio tutti dei vari tipi di nomi particolari. Sì, no, infatti per questo volevo sapere qual era il suo, perché lei non è... Perché io la chiamo Foxy, perché giustamente Foxy. Però... Chiamarie va bene così. Esatto. Vabbè, è inutile dire la versione Trauma, porca. La versione Baldraca, Ubriaca, praticamente, che prova a rimorchiare la gente, ma... Però possiamo dire che fa la Saulti, dai. La Saulti, ma cazzo, perché non la sa usare, perché si pianta contro i muri. In teoria sarebbe per ingaggiare, colpire e scappare. Aspetta, Ibi, cos'è questa cosa? Ari tanta roba, dico solo una cosa, code. Eh, beh, sì, per forza. Ok. Come Homer, code. Code, non c'è un be... Si pianta. E poi vorrei sapere davvero cosa succede dopo che arriva Olaf. No, dice... Anche se è abbastanza scontato. Molto scontato, purtroppo. Pum. Con la skin dove ha bevuto tanto, oltretutto, eh. Quindi figura... Skin da tifoso. Eh, appunto. Gli fa pure il complimenti, praticamente. E poi c'è... Ah, ok, questa la spieghiamo. Apprende, lui gli dice... Allora, torna un po' indietro perché Alistar va da Teemo e gli dice... Ehi, per caso hai fiddato tu Nidali? Nidali è la donna della giungla, la Tarzan femmina. Apprende, che tira queste lance a distanza siderale e più ti becca da lontano, più ti fa danno. E gli dice, l'hai fiddata tu? E lui gli fa, no, 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 assolutamente. E poi rimbalza con tutte le lance spunzionate. Che lui è tank e comunque morire da Nidali, vuol dire, che gli botte nella prese. È tanta roba, eh. Cioè, se un tank viene battuto facilmente da un jungle... L'assassino... È un problema. È un problema assai, sì, sì, sì. Piccola parentesi, ma è vera la teoria che questo qui sarebbe Teemo invecchiato? Invecchiato, tornato nel tempo, sì, vabbè, questo qui è già diventato tutto e nessuno. Sì, esatto. Questo coso qui è diventato quello che parla nell'abisso ululante, cioè, è diventato tutto. Però la teoria più accreditata è che sia un Teemo del futuro. Vabbè, o un Teemo, semplicemente uno della stessa razza di Teemo che però... Stessa razza, sì. Vabbè, piccola merdina gli dice anche. Sì, sì. No, no. Tipo spunta spiglie. Sul serio? Guarda come arrivo. E lì, ok. No, però è vero, eh. A volte è successo che ho avuto a che fare con dei jungler. Ah, questo dobbiamo vedere, questo. Sangry Birds, cos'è? Sì, 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 ma fa troppo. Sangry level. Sì, sono due versioni, poi lo vediamo. E diciamo, i video speciali facciamo in un video separato dai random, perché è troppo. Sono d'accordo. Ma fa troppo ridere perché prendono di mira tutti i champion che sanno volare per colpire i maiali. Perché è esilerante. Esilerante. Che fa ridere. Non vedo l'ora. Perché giocano sulle ulti, sugli attacchi e abilità dei champion, bellissimo. Allora, al 16, vediamo un po'. Ok. Ah, ok. Ah, sì. Questo me lo devi anche spiegare, eh. Perché non me lo ricordo, lei la uso molto poco. Valor, to me. Valor, to me. Sono pure in quattro a menarla. Valor, you fucking piece of shit. No, vabbè, ma che è sta roba. Io lo so. Go, go, go. Patetico. Shredder. Ah, ok. Qua lo spiega. C'è una motivazione. Complicatissima. È complicata. Poi hai detto, lui è classico e ammesso, eh. Sì, però è tutta complicata con la scena. Cassiopea. Si petrifica. Ne parliamo perché è uno dei miei personaggi preferiti. Proprio l'adoro come personaggio. Estetica, skin, mi piace proprio come è fatta. E credo che gli sarebbe piaciuto pure a Rex. Sto parentesi. Sicuro. No! Oddio, cosa? Oh no, oh no. Oh no. Non arrabbiatevi. Sì, mamma mia, è bellino. Ok, allora. Lei è Queen. Queen è Valor e il suo uccellino che la porta in giro sostanzialmente. E la sua volta chiama Valor, gli dà velocità di movimento, la fa allontanare. Qui la vediamo in difficoltà. Cosa fa? Chiama Valor e il problema è che Valor non arriva in questo caso. Mamma mia. Normalmente arriva e non succederà mai che Valor non vi arrivi se usate Queen. A Valor vi arriva. Sì, tra l'altro. Qui fa sul gioco perché ti dà caldo, non sei spacciata, cosa serve che ti porti via? In effetti c'è Mastery. Però, esatto. Quindi provare a scappare è un pochino inutile. Ma se ci pensi, tutti e quattro sono proprio i personaggi che non puoi facilmente scappare. Perché se Dario ti piglia, ti tira uno. Wolf e il Wolf, la Warwick, ti insegue e aumenta la velocità. No, hanno tutti una skill che ti può saltare addosso. Sì, quindi palestemente teoricamente ti agganciano. Sì, ti agganciano. Sì, quindi sì, è fottuta a prescindere, poverina. Vabbè. Lui, se dice fa, sono assomiglia a Shredder. Sì, no, allora, non lui. Lui non assomiglia a Shredder. No, non lui d'altro, sì. Sì, lui è, perché lui è un ninja. E il problema è che lui ha una skin, che molti l'hanno detto, l'hanno preso per il culo alcune volte. Tu non sei, forse eri, più e dovevi ancora entrare, ancora in League of Legends. Lui era preso in giro per il fatto che, ti ricordi che ti ho detto che ha una skin alternativa, tipo ninja. Ah, sì, 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 no, me la ricordo che sembrava un Power Ranger. Esatto, però non solo, lui sembra un antagonista di Power Ranger, quei cattivi, i costume e cose varie. Sì, sì, sì. E poi perché lui, e poi se tu ci fai caso, lui quando si mette in posizione fa sempre quelle cose tipo ya e cose varie. Quindi praticamente la citazione è riferita ai Power Rangers. E poi Zed, vedi, di nuovo Zed. Si pensa ancora a Zed. Eh, ma da go, go, po. Tutte le mosse inutili e poi vanno. Da qui sono tutti i stessi personaggi e hanno cambiato solo i colori. Cioè che tristezza, oltretutto. Ah, a proposito, il blu era gay. L'originale era proprio gay, Blue Ranger. Confermato, approvato. Poi... Andiamo avanti. Poi... Chi era? Andiamo avanti. Sì, 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 poi mi ricordavo. Allora qui ho beh, Shredder è... Lui è Shredder. Lui è Shredder che è sia un cattivo di Power Ranger, mi ricordo, che è il cattivo delle Tartarughe Ninja. E che poi, per chi non lo sa, hanno fatto un crossover delle Tartarughe Ninja e i Power Rangers. E io l'ho visto, e io l'ho visto, purtroppo. E quindi vi è giocato anche su quello. Cassiopeia. Cassiopeia ha la bellissima abilità ulti che se la guardi negli occhi con ore e l'attiva ti pietrifica. Qui giocano sul fatto che spaventandosi se la tira addosso a se stessa e si pietrifica. La cosa inquietante è quello che succede dopo. Vabbè, quello è meglio non domandarcelo. Possiamo capire, visto che l'altro è un pietrone, lei è una pietra, comunque, anche se è una medusa. Una gorgone, scusate, una gorgone. È una gorgone. È comunque piacente e quindi... Posso dire... Che fai? Ci provi. Posso dire soltanto la battuta dei Malfide per fare una citazione? Ah, roccioso. 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 Tutto contento, lui, roccioso. Come se vanno... Oppure no, oppure l'altra battuta che fa, faccio più veloce, che posso. Sì, sì, è vero. Quella è esinerante. Comunque sì, Cassiopea praticamente è medusa, palesemente. Ah, curiosità, per Cassiopea ci sono le scarpe come oggetto utilizzabile. Sì. Ah, vabbè. Sì, sì. Vabbè, sì. Ma anche per Nami. Vabbè, diciamo che semplicemente è stata la scusa per dire, vabbè, tanto va veloce. Sì. Special Edition, andiamo? Eh, c'è la Special Edition. Vabbè, la Special Edition è generico. Cioè, vuol dire che dopo un tot te la parte. Quindi si può fare. Sì, doveva ancora metterlo in tutto. Ci ha anticipato il tipo. Mi hanno dato un po' di gente. Ah, sì. Madonna. Stereotipi di gente di colore, proprio, mamma mia. Pure. No vabbè ma qui è proprio ghetto Nooo Cos'è questa cosa? Non lo so No non l'ho capito Ah ok Sì No vabbè la citazione Mi fa spoiler? No Eh spoiler volevo dire I miei occhi No ti prego Così a cazzo No Vabbè vabbè E diciamo che ha fatto un minestrone Ha preso e ha buttato dentro Tutto il Ciò che poteva essere buttato dentro Sì ha potuto giocare su tutto Allora questo è Lucian Questo è Lucian personaggio Quello di colore Usa due belle pistolone proprio alla Nigga del ghetto Praticamente Qui Darius evidentemente L'ha ucciso qualche volta di troppo Quando uccidi un champ Ti prendi i suoi soldi E qui succede il contrario Quindi Lucian usa la torre Per uccidere Darius E poi va lì e gli ruba i soldi Noi diciamo Beh In realtà viene fatto da tutti Quindi Può essere pure che Può essere pure che Lui l'ha colpito Però per evitare Di essere killato Si è messo sotto la torre Darius gli è andato addosso Sì no infatti Ha sfruttato la torre Per salvarsi Darius è morto Perché Darius Tendenzialmente Chi gioca Darius Gioca bello agro Quindi va sotto le torri Però se non sei in grado Succede che muori Sì succede E quindi ti riprendi Tutte le tue cose No come quando lootti Su Dungeons & Dragons Lootti nemici Sì sì Piccola parentesi Da notare Come le prime torri Che adesso sono dei veri soldati Era un uomo serpente Era un uomo serpente Era un uomo serpente Infatti alcuni pensano Che erano collegati A Cassiopea Perché erano di quelle categorie In realtà Era un uomo naga Che sono stati pietrificati Proprio da Cassiopea In realtà si credeva Sì figurati Dei naga Sì ragazzi Perché naga Sono delle creature Uomini serpenti Poi ci sono I lamia Che sono femminili Sì perché hanno fatto Sta cosuccia di differenza Sì 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 E poi vabbè Poi ci sono Gorgone Incitazioni Riferimenti Però sono sempre La stessa specie Tutta a posto Andiamo E qui ok Gli rubo tutto Poi qui vabbè Questo personaggio Parliamo chi è Aspetta Questo è l'ennesimo scherzo Di Di cattivo gusto Su Ezreal Secondo me No 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 Vabbè Però la skin esiste La skin Dello Dello scoiattolo Qua Se ti ricordi C'è Quanti ricordi Il ninja Il ninja Il ninja Si chiama Quel ninja elettrico Quel coso strano Praticamente Sì ma Kennen 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 La donna gatto Come si chiama Che era Che era Donna gatto No 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 La ninja La ninja Che era Che faceva Ah Catarina Catarina Miau miau No No La ninja Quella con le lame Quella la proprio Catarina Non Catarina Quell'altra Quell'altra Eh no Che è stata Rivolcata È stata Rivolcata Irelia Eh Che ha La skin Da Da infermiera Sì in realtà Adesso ce l'hanno Un po' di sempre La skin Da infermiera Però Lei era la prima E c'era lui dietro Che poi era la skin Ecco Medico Infermiera E poi non l'hanno Mai messa Ok Comunque fa Nascere Vabbè Striglia Dice una femminuccia Sempre Questa qui Invece Lo sa solo Sì no Non l'ho capita Davvero Perché vadano Via così Non lo so Neanche io Non l'ho capita Davvero Non lo voglio sapere Questo Beh sì Questo sì Ma sai Scherzano sulla skin Che le hanno dato Praticamente Che lei Aveva una skin In cui cavalcava Un maialone In effetti Cavalca un cinghialone Delle nevi Però qui dice Madonna Questa è Caccia C'è una skin In cui cavalca Il maiale Questo è Urgo Questo non l'abbiamo mai visto Arriva e dice Ehi ma perché Non mi usate in un vostro video E ecco Come viene usato È perfetto È una fisarmonica Sì Con una musa Scusate Pardon Ci usiamo Va bene Ci usiamo così però Trailer di Jinx Vabbè La intro Questo sarebbe il primo video Di Jinx Quando viene mostrato Di Jinx Quando viene generata E uno dice Ah cavolo È blu così Potrebbe essere una Una medusa O qualcosa Infatti Gli hanno fatto la faccia Mostruosa In realtà È abbastanza gnocca Io ti gioco Io penso Che era Draven Fatto male Sicuramente Non Draven Beh qui si gioca Sulla frase Di Vane Dice Dormo tra le ombre Del genere Mamma mia Questa invece Non l'ho capita Questa allora Prende Eccolo qua Lui Prende la Vladimir E vabbè Ispirato a Drago Sostanzialmente Ragazzi Ci siamo Lui ha una mossa Che può creare Una pozza di sangue Diventare pozza di sangue E spostarsi Senza essere toccato No Il problema è che Letteralmente C'è una pozza di sangue E questo E in realtà Ma che succede Vlado Lui fa E ho le mie cose Sul ciclo Vedi se sono nel mio periodo Vuol dire Ho il mio periodo Ho le mie cose E poi io sono Optimus Perché non c'entrano Sottolineo un cazzo Però fa ridere Vabbè si Esatto Devi far ridere Perché altrimenti Non fa bene Esattamente E bon Ovviamente pubblicità Immediatamente Mamma mia Tanto questa è la terza volta Che vediamo la stessa pubblicità Almeno cambiassero qualcosa Invece no Che poi che cosa ci stanno Le corsi Tipo Non lo so Non lo voglio sapere Non è una marca di Avvigliamento Spero te no Uh la versione Allora Nasus Che noi abbiamo visto La vecchia versione Del video precedente Questa non è neanche La versione predefinita Ma è la versione Che è stata proposta Gratuitamente Chi si sarebbe Iscritto a League of Legends Quando usciva Nasus L'ho scoperto così A caso E Quindi Wow Bellissimo Che poi tipo Nightmare Versione oscura Non mi ricordo come l'avevano Detto questa versione Poi Fichissimo Ovviamente Effettivamente è un cane Quindi Una donna che cattiveria Ora so cazzo Ha ultato JARVAN Ah ok ok JARVAN è quello Che tu dici Il regolo Il famoso Lancia bandiera Questa arriva Immaginavo Ecco Ecco perché Lancia bandiera Raga Madonna Che cazzo Sembra il trailer Di Taken Sembra Sì è vero Ah sì Allora Questa è da spiegare Poi Guarda la cattiveria Questo è Mortal Kombat Sì Io ci ho visto anche un'altra citazione Poi te la dico Bellissimo le mani Come erano pixelate Guarda come erano rigide Che cattiveria Ma Ma Sì Sì Non è Che cattiveria Che cattiveria Che cattiveria Ok Qui siamo In situazione Anche qua Ah è giusto Sono nemici Certo Giusto Ok Questa No No Mi chiedo Guarda i tuoi grandi Glacce Oh no 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 È tutto Che cattiveria Io sono un kitty Madonna Che cacchi è Mi sono uscito Da una carrellata Oddio Dimmi che non sono gli ospiti Seconda volta Ok no Oddio Che cos'è Magari stacchiamo Magari stacchiamo Anche delta Dopo questo No Dopo il prossimo Sì Ancora il prossimo Andiamo al 18 Allora Nasus Nasus Qua è stato Poi la sua ultima Diventa gigante Sanzialmente Quindi ecco Fa paura la gente Spieghiamo Poi abbiamo Jarvan qua Che maltratta malissimo La gente Perché lui ha il potere Di atterrare In un punto Creare tipo un'arena E nessuno può uscire Da questa specie di arena Di pietra Ecco perché crea le pietre Ecco qui Qui allora Qui delta ci ha visto Una fatality di mortal combat E ci sta Io invece ci vedo Una trappola di soul Enigmista Visto che Lui assomiglia anche Alla maschera di soul È vero È vero Usate il telefono Un attimo Scusate Lol C'è sta C'è sta No quindi Tanta roba Vabbè qua Lo dico io Intanto Nel frattempo Ragazzi Qui praticamente Loro due Sono stati criticati Criticati Per chi è fan Del cinema Che sia Kazix Sia Rengar Sono in realtà Delle riferimenti In realtà ero Dei copi in colla Tra virgolette Modificati Di Predator E dell'alien Perché giustamente Si parlava Del Del più Del predatore Più pericoloso Del cacciatore Del Della No predatore Del cacciatore Più pericoloso Entrambi i cacciatori Entrambi i cacciatori Esatto So che giustamente Sono io No sono io No sono io Poi arrivano questi qua Che sono le loro copie Diciamo originali E gli fa No ma in realtà sei tu Perché guarda che bella lampa E gli fa No no ma in realtà sei tu E poi si impiccioliscono Perché dicono Ok voi siete gli originali Siete Era meglio E quindi Ma è ovviamente Che cosa potevano Faccio miau miau E l'altro fan Che poi veramente Però che cacchio Questo tiene cazzo Delle lave Che sono i denti Che alle braccia Cioè guarda Alle stesse tenaglie Sì 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 E in guarda No vabbè ma è palese Che siano ispirati Cioè proprio È proprio una tristezza Non dico una tristezza Ma è carina Come cosa però Però mamma mia Cambia qualcosa Tipo Poi quando fai i video Dici Sì ma cambiali un po' Sì effettivamente Potevano anche Allora chiedi Compete Sì ma modificali un po' Allora ci facciamo L'ultimo L'ultimo dai Che poi chiudevo È già arrivata la chiamata Eccola Ah momu Skin originale Sì Base oltretutto È ovviamente Eccola Facciamo del suo pianto acido Mamma mia Sto nel record Eccolo Eh tu Fatima Ahia Eh Lui è un esperto Giustamente Allora qui inizierà poi una serie, una telenovela Madonna, che cattiveria Ok, Funny Time with Trinder sarà una serie, quindi lo ritroveremo Ah, e basta, fa male solo a guardarlo Ok, fa male solo a guardarlo Madonna, questa skin di... È la skin di Lux Lux è bellissima Questa qua è bellissima Vabbè, è un tank ragazzi È un tank puramente tank Un tank, gioca giungla Quando piangono il pianto acido che vi dicevamo Distrugge tutto Aspetta, questo coso giochi giunga, sto coso E dove lo giocheresti, scusa? Appunto che pensa che era un tank Ma sì, è tank Ma si gioca giungla Non lo sapevo Oh mio Dio Se vuoi poi giochiamo ti faccio vedere Worka anche, worka anche abbastanza bene Marmoro Vabbè, questa è una battuta Perché giustamente questo Sanno 3-4 volte a ogni santa volta Questo è il richiamo Frente il richiamo di Graves con quella skin Lui salta e poi quando cade nel buco Torna in base Qui evidentemente succede quando c'è qualcosa che non va O gli tirano un silenzio Gli fanno qualcosa E si pianta malissimo Veigar Veigar crede di essere il re del male Il principe del male L'essenza del male In realtà è una specie di puffo nero Allora La sua frase fa Succhierò la tua anima Esatto Allora Devo dire una cosa Io l'ho visto Ti devo far vedere poi il video Che lui combatte contro Jax Sto folle psicopatico Lui dovrebbe arrivare Dallo stesso posto Adesso non mi ricordo bene Se è il Void O qualche altro No, no, no Lui è un folletto del cazzo Non è un folletto È proprio un folletto del cacchio Sì, sì È bello e buono Vuole dare fastidio a Jax Jax sta bello tranquillo Sulla lontana a dormire Poi arriva questo qui Con la fiammetta sulla mano I guarda Se gli rubo l'anima Ma che vuoi Però è bellissimo Che lo fanno pure cattivuccio Sì, è malvagio Allora È inutile da dire Che rappresenta Del classico mago nero Del fantasy È inutile dire Cacchiarola Che somiglia a Vivi Di Final Fantasy 9 Ragazzi Io lo adoro per questo Cioè io adoro sto piccoletto Perché mi ricorda Vivi di Final Fantasy Ragazzi Ma ci sta, è vero Ci somiglia molto Comunque qui dice Che succhiera l'anima E poi compare Trash Che è un esperto Del mondo dei morti E di anime Infatti faccio vedere io Come succhiare l'anima Infatti No, ma come è bello Solo la mano Bellissimo E in effetti Trash ha la meccanica Che assorbe le anime Dei nemici sconfitti Quindi Ci sta come cosa Ma come figlio Però se l'ha fatto Eh Vabbè ci penso io Lanterna Ecco lui Ecco Tryndamere Ma quante Sì questo è Tryndamere Ragazzi Per chi non conoscesse Tryndamere È quello che ha Quello con le Come Non con lo spadone È quello che Sì sì C'è una spada enorme Ci fa anche Ok allora è lui Allora è lui Allora è lui Ok Allo spadone È della stessa Zona Dove abita Ash Perché è anche lui Di ghiaccio Il freglie Esatto E qua hanno fatto Le battute che sono sposate Perché poi Infatti Mi sembra che hanno Una relazione Loro nella loro Perché non mi ricordo Fare di sì Fare di sì Stessa Ehm Posso essere Honest Con te Honey Of course Dear Ho f***o Misfortune Ecco Lei gli dice Ma sto Non ho grassa In questo vestito Lui li fai Ma posso essere Sincero Lei certo Mi sono fatto Misfortune Sì mamma mia Che cazzo Tanto È strano Guarda Questo Funny time With a Trynda Non ne trova Trinda Mamma mia L'unica cosa È Questo Cosa strano Che hanno Qua Qua sono stai Bastardi Perché non sta In realtà Non sta Facendo un riflesso Allo specchio Sì sì È solo un portale Basta Esatto Dall'altra parte C'è un altro modello Che stanno riproponendo L'animazione Bastardi Sì guarda Guarda qua Si si no no Si vede Si vede Tipo come fosse un buco Praticamente Mamma mia Ok quindi punto Funny time With a Trynda Sarà una telenovela Lo troveremo Poi in altri episodi Qui vabbè Anivia che si mangia Le ossa Mamma mia Vabbè Poi parleremo anche Di quell'uccellaccio Poi uscirà Siamo alla parte 18 Ragazzi Tanta Tanta Poi iniziamo Della 19 Mamma mia Comunque C'è tanto da dire Di League of Legends Ma noi stiamo giocando Tutto sul Vedere le cose Narriamo un po' Però poi giocheremo Anche Parleremo anche Molto di più Di queste cose Assolutamente Sì Ok Io vi saluto Vi saluto anch'io Vi saluto tutti Ragazzi Grazie della compagnia Quindi qui del 38 Al prossimo video Passo e chiudo Credo che stasera Non credo che farò video Non lo so Forse sì Io no Io non ci sono sicuro No no Dico Non so se sono con Grius O roba sì Per fatti miei Certamente Dovete aspettare Gli ospite che arrivano Quindi boh Qui del 38 Passo e chiudo Ciao ragazzi Ciao ragazzi